La pandemia da due anni richiama scenari di guerra non solo nel linguaggio, almeno non più da quando gli aumenti incontrollati di luce e gas hanno travolto cittadini e imprese. In montagna allarme rosso, tuona la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Loren Bertone, il suo è in uno grido di allarme e appello al governo. È come avere il coltello alla gola dopo una pandemia, per cui o si trovano soluzioni, ma soluzioni veloci, immediate, perché alcune aziende, tante aziende, soprattutto le piccole e medie imprese, dovranno decidere cosa fare delle loro attività. L'aumento dei prezzi delle materie prime sui mercati internazionali è ampio. Diffuso, petrolio più 13% a dicembre 2021 su fine 2019, rame più 57%, cotone più 58%, oltre all'impennata abnorme del gas più 723% che si è riversata sul prezzo dell'energia elettrica. 37 miliardi previsti per le imprese nel 2022 rispetto agli 8 del 2019. Noi auspichiamo che il governo giovedì, domani, prenda provvedimenti immediati, immediati, e mi permetto di ricordare che le aree montane soffrono ancora di più, perché per noi i rincari sono ulteriormente aggravati. E poi c'è la questione dei ristori per quelle attività ancora compromesse dall'incertezza legata alla quarta ondata della pandemia. Mi auguro, mi auspico, soprattutto per il mondo del turismo, che questi ristori siano continui, costanti, che vengono monitorati, perché guardate che qui le aziende chiudono e non riaprono più, questo è il vero dramma. La situazione pandemica attuale per le aziende si sta dimostrando ancora più aggressiva delle precedenti ondate. Le aziende e gli imprenditori oggi sono allo stremo, ma come? Come? Sono allo stremo anche i nostri operatori, la gente, insomma, non dobbiamo veramente affrontare il tema con serietà. La stessa serietà richiesta in queste ore di vigilia dell'elezione del nuovo capo dello Stato. Qui vediamo il balletto, mi permetto di dire, delle sedie. La trovo una cosa veramente vergognosa, perché le risposte ci sono, sono chiare, e mi permetto di dire che queste persone che noi abbiamo eletto devono mettere le persone che il popolo vuole al Quirinale e anche al governo. E mi pare molto chiaro che la gente ha già scelto.